Buon venerdì, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Dalle prime ore del mattino i carabinieri di Venezia hanno eseguito una serie di misure cautelari emesse dalla magistratura lagunare nei confronti di alcuni stranieri. I militari hanno compiuto una serie di perquisizioni in tutta la provincia. Alla fine hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare vendevano cocaina e marijuana in provincia di Venezia. Le indagini coordinate dalla locale procura hanno individuato a capo dell'organizzazione alcuni albanesi caratterizzati da una particolare indole violenta. Infatti o per assicurarsi il silenzio da parte degli acquirenti o per velocizzare i pagamenti dello stupefacente facevano spesso ricorso a pestaggi o a gravi intimidazioni. Un giudice padovano in servizio a Venezia, Giuliana Galasso, è stata aggredita ieri sera a Padova dietro al Teatro Verdi. È stata aggredita e scippata della borsa. La caduta è stata violenta tanto da rimediare una frattura alla spalla. Da quanto si apprende la persona che l'ha colpita e derubata sarebbe di colore dare in sella ad una bicicletta sono in corso indagini. Restiamo ancora a Padova e parliamo di un episodio inquietante avvenuto nella notte. Alle 24 è stata fatta esplodere una bomba carta davanti al centro di preghiera islamico frequentato da cittadini del Bangladesh. Centro che si trova nella quartiere Arcella in città. A dare l'allarme dopo il boato sono stati i residenti svegliati di soprassalto. Vi raccontiamo cosa è accaduto. Paura nella notte nel quartiere Arcella a Padova. Un boato ha svegliato i residenti di via Jacopo da Montagnana. Era mezzanotte quando un botto ha fatto sobbalzare gli abitanti del quartiere. Sconosciuti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti al centro di preghiera islamico. Al civico 7 si trova il Bangladesh Islamic Center. Aveva chiuso alle 20. Si tratta di un luogo di preghiera frequentato da cittadini cingalesi e del Bangladesh. Subito dopo il boato sul posto sono accorsi gli uomini della polizia e della Digos. Oltre ai resti della bomba carta sono state trovate anche tracce di un fumogeno, forse acceso per nascondere eventuali telecamere presenti nella zona. Gli sconosciuti hanno anche sfondato a calci una porta che conduce ad alcuni appartamenti sempre abitati da immigrati. Il complesso ospita quasi esclusivamente persone di nazionalità del Bangladesh e cingalese. In passato il centro di preghiera non aveva creato problemi, eccetto qualche lite con i residenti della zona in merito all'utilizzo di alcuni parcheggi. Sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. La Digos sta ora verificando la presenza di telecamere di video sorveglianza in zona che abbiano filmato l'accaduto. Da Cortina a Cuba, questo il tragitto da un'idea di Papa Francesco e di un padre missionario che un vecchio autobus per anni in servizio proprio a Cortina concluderà tra pochi giorni quando sbarcherà da una nave che lo sta trasportando nell'isola. Qui verrà impiegato in una scuola locale frequentata da bambini con disabilità. Il bus andava rottamato e invece è stato recuperato e ceduto a un istituto religioso. Questa mattina a Venezia il comandante della Legione Veneto dei Carabinieri ha parlato di sicurezza. Il comandante della Legione Veneto dei Carabinieri, generale Maurizio de Talmo Mezzavilla, ha espresso il massimo impegno dell'arma assieme alle forze dell'ordine per garantire sicurezza ai cittadini, in particolare in occasione di grandi eventi come l'apertura del Giubileo. Mezzavilla, venerdì a Venezia, ha detto di concordare con quanto affermato recentemente dal ministro degli interni, Angelino Alfano, e cioè sul fatto che non esistono realtà a rischio zero. Ha però rassicurato l'impegno massimo dei Carabinieri per garantire livelli di sicurezza essenziali. A tale riguardo, da tempo è stato sensibilizzato il personale dell'arma sul fronte del monitoraggio del territorio per prevenire eventuali rischi. Il clima internazionale, ha aggiunto il comandante Veneto dell'arma, non aiuta a far comprendere ai cittadini i risultati raggiunti sul fronte della sicurezza, indicando che il 2015 è stato un anno sostanzialmente positivo, che ha registrato anche un altissimo livello di reati scoperti e denunciati. Stamane numerose filiali della Banca Popolare di Vicenza, l'istituto di credito più importante della provincia di Prato, sono state perquisite dagli uomini della Guardia di Finanza in tutta la regione. L'inchiesta della Procura di Prato ipotizza il reato di estorsione da parte di dirigenti di banca nei confronti di alcuni clienti imprenditori. In particolare, le denunce degli industriali alla Procura riguarderebbero le modalità di vendita di azioni bancarie negli ultimi anni. Ieri vi abbiamo parlato di un blitz interforze che si è compiuto in città, avvenuto al centro ingrosso Cina. Allora oggi ci sono alcuni numeri sull'operazione, anche su un ingente sequestro di giocattoli che è stato eseguito. Un centinaio gli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno partecipato all'operazione al centro ingrosso Cina contro il lavoro nero e per la verifica della qualità dei prodotti e del rispetto delle regole. Hanno partecipato uomini della polizia, carabinieri e guardia di finanza, presenti anche polizia locale, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e camera di commercio. Durante il blitz sono stati controllati i box delle attività presenti e identificate decine di persone. Sono stati sequestrati 190.000 articoli tra giocattoli e oggetti di bigiotteria che si sono rivelati pericolosi per la salute pubblica. È stata infatti rilevata presenza eccessiva di nichel e altri metalli. Inoltre in molti prodotti non c'era il marchio CE e le indicazioni di provenienza. controllate anche un centinaio di persone, 25 delle quali con precedenti. Si tratta della prima applicazione concreta di un protocollo d'intesa siglato in prefettura a Padova tra le forze dell'ordine una decina di giorni fa. Una banda che derubava i camionisti lungo l'autostrada del Brennero è stata sgominata al termine di un'indagine di polizia. I malviventi di origine campana agivano di notte prendendo di mira i tir parcheggiati nelle aree di sosta della A22. Sei persone sono state arrestate. L'operazione si è svolta in collaborazione tra Polizia Stradale di Modena, Verona e Trento. Adesso ci spostiamo a Verona e parliamo di uno spettacolo teatrale davvero molto bello. Debutta il 25 dicembre al Teatro Stimate di Verona con repliche fino al 6 gennaio. Un nuovo musical di Natale. Sentiamo di cosa si tratta. E se il Polo Nord improvvisamente rischiasse il disgelo a causa dell'inquinamento degli uomini e la regina tormenta per salvarlo volesse scagliare una tremenda bufera proprio la sera della vigilia? E se Babbo Natale, vittima di un terribile incantesimo, non potesse consegnare i doni a tutti i bambini del mondo? E se l'unico modo per liberarlo fosse una magica pozione? Debutta il 25 dicembre al Teatro Stimate di Verona con repliche fino al 6 gennaio Babbo Natale e la Pozione delle Tredici Erbe. Una fantasy in stile musical per grandi e piccini coprodotto da Fondazione Aida, Ricola è assessorato all'istruzione del Comune di Verona. Una commedia musicale con trama e canzoni completamente originali, sempre nel rispetto della tradizione e della magica atmosfera del Natale, porterà gli spettatori tra spericolate avventure, colpi di scena e balli in viaggio con Babbo Natale e i suoi aiutanti tra palazzi di ghiaccio al Polo Nord fino ai monti della lontana Svizzera. Il tutto per trovare le Tredici Erbe della Pozione Magica che salverà Babbo Natale. La regia è stata affidata a Raffaele Latagliata, attore e regista. Allora Raffaele, come nasce Babbo Natale e la Pozione delle Tredici Erbe? Nasce dalla volontà di Fondazione Aida di proseguire il cammino iniziato lo scorso anno con Buon Natale e Babbo Natale e cioè di portare a Verona durante il periodo delle festività natalizie un musical originale, nella trama e nelle musiche, dedicato a tutta la famiglia. Come mai questo titolo, la Pozione delle Tredici Erbe? Babbo Natale quest'anno si troverà ad affrontare una nuova avventura. dopo essere riuscito l'anno scorso a superare e a sconfiggere il Mago Bisesto quest'anno si dovrà cimentare con una nuova rivale, la Regina Tormenta che scatenerà su di lui un terribile incantesimo e la Pozione delle Tredici Erbe sarà l'unica in grado di salvare Babbo Natale da questo incantesimo e salvare anche il Natale per tutti i bambini del mondo. Quindi questo è uno spettacolo rivolto alle famiglie e ai bambini? Sì, la volontà è quella di creare una vera e propria favola natalizia in musical e quindi uno spettacolo che si rivolga a tutta la famiglia non uno spettacolo solo ed esclusivamente dedicato ai bambini sì, rivolto ai bambini che si appassioneranno e verranno coinvolti dai colori, dalle luci, dalle musiche eccetera eccetera ma è anche uno spettacolo che è un vero e proprio fantasy quindi una storia avventurosa che quindi può essere anche apprezzato dai ragazzi, un po' più grandicelli e soprattutto che parla anche agli adulti ci saranno anche dei messaggi importanti legati al rispetto dell'ambiente e quindi un messaggio anche di carattere ecologico. Il debutto dello spettacolo quindi? Il debutto dello spettacolo è previsto per il giorno di Natale anche questa è una novità assoluta è la prima volta che viene proposto a Verona uno spettacolo teatrale durante il pomeriggio del giorno di Natale ci auguriamo però che le famiglie, i bambini che si riuniscono durante il giorno di Natale per celebrare insieme questa festività il pomeriggio possano venire a teatro a trovarci lo spettacolo poi proseguirà con varie repliche fino al 6 gennaio coprirà quindi tutto il periodo delle festività natalizie al Teatro Stimate di Verona. Ammonta a 754 milioni di euro il fondo regionale per i non autosufficienti per il 2015 approvato dalla giunta regionale Veneta è ora trasmesso all'esame della commissione sanità del consiglio regionale la delibera di riparto è stata presentata dall'assessore sociale di concerto con l'assessore alla sanità conferma la stima storica prestabilita a inizio anno di 718 milioni ripartiti tra le 21 ulse regionali per i servizi di assistenza ad anziani, disabili e cronici gli assegni di domiciliarità e le impegnative per le case di riposo e adesso l'appuntamento sempre molto atteso quello con l'esperta di storia che ogni fine settimana ci accompagna alla scoperta, all'approfondimento di determinati argomenti allora la linea a Marisa Sottovia grazie, grazie gentilissima Patrizia oggi parliamo della foresta di Paneveggio ossia la foresta dei violini che si trova in Trentino in questa foresta nel passato era frequentata dagli utai veneziani ma anche proveniente da altre città e era frequentata anche da Antonio Stradivari una foresta che per il 90% appunto erano presenti soprattutto abeti rossi plurisecolari che erano adatti alla costruzione delle casse armoniche dei violini c'erano anche altri tipi di abete come abeti bianchi larici e anche il epinocedro il legno dell'abete rosso è particolarmente elastico e quindi trasmette meglio il suono inoltre i canali linfatici sono come piccole cani d'organo che hanno una migliore risonanza ma come faceva Antonio Stradivari a riconoscere i tronchi più adatti al suo scopo frequentava in silenzio queste foreste picchiava il tronco ascoltava il suono e quindi in base a quello che secondo lui poteva essere il tronco più adatto faceva la selezione e soltanto un abete rosso su cento era adatto appunto alla costruzione degli strumenti musicali oggi di questi abeti rossi praticamente non ci sono quasi più perché? perché è finita l'epoca del grande freddo della piccola glaciazione e poi oggi insomma ci sono anche più inquinamento da questa foresta appunto dei violini chiamata così anche Venezia recuperava veniva trasportato il legname all'arsenale per la costruzione delle nave e delle galè chi era? Antonio Stradivari è stato un costruttore, un liutaio costruttore di strumenti musicali accordi quale violino viole e violincelli arpe e chitarre lui è nato a Cremona 1644 ed è morto a 93 anni ed ha lavorato fino alla fine fino agli ultimi giorni è stato nella giovinezza si è formato nella sua città è stato dipendente di altri illustri liutai a un certo punto interprende appunto un'attività autonoma per poter costruire in proprio tali strumenti si conta una produzione di circa 1100 pezzi, 1100 strumenti ed è ancora esistente una quantità di circa 500-600 di questi strumenti strumenti che hanno un lavoro, un valore storico ma anche ovviamente economico fa piacere poi appunto sapere che nelle sale di concerto di tutto il mondo risuona un po' della foresta dei violini appunto Trentina Un'altra notizia che arriva dal mondo della salute prima di dare uno sguardo a cosa succederà a livello climatico la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari sono in grado di regalare oggi 10 anni di vita in più ma alcune malattie come lo scompenso cardiaco e l'aterosclerosi sono in allarmante crescita confermandosi le sfide più urgenti della cardiologia del terzo millennio a fare il punto è la società italiana di cardiologia presentando oggi il 76esimo congresso nazionale della società congresso in corso a Roma da oggi fino al 14 dicembre al quale partecipano oltre 2000 esperti internazionali ed ora uno sguardo alla situazione climatica vediamo un po' lo scenario che ci aspetta l'anticiclone subtropicale africano continuerà a estendersi verso le nostre latitudini almeno fino a metà della prossima settimana con un leggero indebolimento tra domenica e lunedì quindi persisterà questa fase anomala ancora senza precipitazioni con inversione termica e umidità stagnante nei bassi strati specie in pianura e fino a domenica è tutto per questa edizione vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana arrivederci